In inglese l'espressione è rassicurante anche dal punto di vista fonetico, good old times, che sta a significare i bei vecchi tempi, quelli in cui nei momenti complicati per l'allora Itasdia Tech Trentino toccava al servizio di Mattei Kazischi togliere le castagne dal fuoco e risolvere rotazioni complicate. Quei bei vecchi tempi sono tornati al Palatrento. Contro un novi sad combattivo e coriaceo l'NRGTI non gioca una delle sue partite migliori, bisogna dirlo, propone un gioco efficace sì ma discontinuo e disordinato. E i serbi quatti quatti allungano sia nel primo che nel secondo set. Ma allora ci pensa, come già detto, lo zio Mattei dalla linea dei 9 metri a randellare senza pietà la ricezione del novi sad, propiziando le accelerazioni decisive. Nel primo set con una serie micidiale, ma anche nel secondo, con l'Ace che cambia l'inerzia dei vantaggi finali. Cinque Ace in tutto, a fronte di appena tre errori, e sarà 3 a 0 dunque. 25 a 23, 31 a 29, 25 a 20, con spazio a Burgstaller e al giovanissimo Giannelli nel terzo set. Dovevano vincere almeno due set i giallogru per passare il turno, missione compiuta, ma Storice va a monisce, così non va bene. Pur sapendo esattamente la distribuzione del palleggiatore, avevano un muro a due e un muro a tre, loro sempre passavano. Su sei situazioni di muro a tre, 0 punti per noi, si è complicato e alla fine, per miracolo, come è successo anche lì, Mattei ha risolto il problema in battuta. Grazie.